Un anno e mezzo fa si parlava, era più o meno dicembre del 2013, si parlava, sarà impossibile, ci avranno limitato, Massimo non l'hai vista, la vedi adesso per la prima volta, ci avranno limitato e quant'altro, eccoci qua, è pronta. Adesso chiaramente Furio e il suo film ne faranno un tesoro e ne rappresenteranno ovunque, quindi saranno da ovunque. Quanti movimenti può fare un oggetto nello spazio? Vediamo se c'è qualche tecnico, qualcuno che ha fatto congetteria in qualche parte. Quanti oggetti può fare? Quanti movimenti può fare un oggetto nello spazio? Quanti? Perfettamente, 6, 3 traslazioni e 3, come? 1, 2 e 3, le traslazioni e poi abbiamo 3 rotazioni, solo una, scusate la pesa, il beccheggio, non la facciamo solo, il beccheggio, il rollio, che sono le due rotazioni e la terza rotazione, che è l'imbaldata, x, y, z, a, io qui c'è il roll, o mezzo. Ora ve lo faccio vedere dal vivo, lo accendiamo e facciamo un volo bassissimo, comunque adesso io la faccio molto semplice, però in realtà è come essere controllo la modalità, cosa sta facendo il perigo in aria? Se ho un assorbimento di... Lui adesso è più o meno... Aspettate, mano sinistra, come se non ce l'avessi più o meno livellato, vedete? Guardate se faccio vira a destra. Adesso tutti direte, no, è sbagliato, sembra come se vira a sinistra, giusto? E' sbagliato, no, è così, funziona proprio così, esattamente così. Adesso attiviamo, mettiamo auto, lui entra.